Chenier, gridò Baldini da dietro al banco, dove era rimasto seduto per ore rigido come una colonna, fissando la porta. Si mette la parrucca! E tra barilli d'olio d'oliva e prosciutti di Bayon, pendenti dal soffitto, comparve Chenier, il garzone di Baldini, un po' più giovane di quest'ultimo, ma anche lui già anziano, e avanzò verso il reparto più elegante del negozio. Tolse la parrucca dalla tasca della giacca e se la cacciò in testa. Esce, signor Baldini? No, disse Baldini, mi ritiro per qualche ora nel mio studio e desidero non essere disturbato per nessun motivo. Ah, capisco, sta per creare un nuovo profumo? È così, servirà a profumare una pelle spagnola per il conte Veramont. Vuole qualcosa di totalmente nuovo, qualcosa come, come, come credo si chiamasse, ah sì, amore psiche, quello che voleva. E sembra che provenga da quel, quel guasta mestieri di Rue Saint-André Desartes, quel, pelissier, già pelissier, giusto. Così si chiama il guastamestieri. Amore psiche di pelissier. Lo conosce? Ma sì, certo, adesso lo si sente dappertutto. Lo si sente a ogni angolo di strada, ma, se vuole il mio parere, niente di speciale. Non si può comunque paragonare a quello che comporrà lei, signor Baldini? Naturalmente no. È un profumo estremamente comune, questo amore psiche. Volgare? Proprio volgare, come tutto quello che fa pelissier. Credo che contenga olio di limoncello. Davvero? E che altro? Essenza di fiori d'arancio, forse. E forse tintura di rosmarino, ma non posso dirlo con certezza. Mi è anche del tutto indifferente. Naturalmente, me ne infischio di quello che ha diluito nel suo profumo quel guastamestieri di pelissier. E neppure me ne lascerò ispirare. Ah, in questa ragione, messier. Come sa, non mi lascio mai ispirare. Come sa, elaboro io stesso i miei profumi. Lo so, messier. Li produco soltanto da me. Lo so, lo so. E sto meditando di creare qualcosa per il conte Veramont che davvero faccia furore di questo. Sono convinto, signor Baldini. Si occupi del negozio. Ho bisogno di quiete. Tenga tutti alla larga da me. E con ciò si allontano strascicando i piedi, non più statuario. Ben sì, come si conveniva la sua età, curvo, quasi come se l'avessero picchiato. E salì lentamente la scala fino al primo piano dove si trovava il suo studio. Chenier prese posto dietro al banco. Assunse esattamente la stessa posizione del suo padrone in precedenza. E si mise a fissare la porta. Sapeva che cosa sarebbe successo nelle prossime ore. In negozio, assolutamente niente. E su, nello studio di Baldini, la solita catastrofe. Baldini si sarebbe tolto la giacca blu, impregnata d'acqua di frangipani. Si sarebbe seduto allo scrittoio e avrebbe atteso un'ispirazione. Quest'ispirazione non sarebbe venuta. Si sarebbe diretto rapidamente verso l'armadio che conteneva centinaia di bottigliette di campioni. E avrebbe miscelato qualcosa a casaccio. La miscela non sarebbe riuscita. Lui avrebbe imprecato. Avrebbe aperto la finestra e gettato la miscela giù nel fiume. Ne avrebbe provato un'altra. Anche quella non sarebbe riuscita. Avebbe gridato e si sarebbe infuriato. E in quella stanza, che già emanava un odore stordente, avrebbe avuto una crisi di pianto. Verso le sette di sera sarebbe sceso in uno stato pietoso, tremante e piangente. E avrebbe detto Chenier, non ho più naso. Non riesco a creare il profumo. Non posso consegnare la pelle spagnola per il conte. Sono perduto. Sono morto dentro. Voglio morire. La prego Chenier. Mi aiuti a morire. E Chenier avrebbe proposto di mandare a prendere da Pellissier una boccetta di amore psiche. E Baldini avrebbe consentito, a condizione che, nessuno venisse a sapere di questa vergogna. Chenier avrebbe giurato e la notte in segreto avrebbe trattato la pelle per il conte Veramont con il profumo altrui. Così sarebbe andata. E non altrimenti. E Chenier desiderava soltanto che tutta quella commedia fosse già finita. Baldini non era più un grande profumiere. Sì, un tempo, da giovane, 30-40 anni prima, aveva creato Rosa del Sud e Bucchè Galante di Baldini. Due profumi veramente riusciti, ai quali doveva il suo patrimonio. Ma adesso era vecchio e logoro. Non conosceva più le mode del tempo e i nuovi gusti della gente. E comunque riusciva a raffazionare un profumo suo. Era roba completamente fuori moda e invendibile. Che l'anno dopo diluivano dieci volte tanto e smerciavano come additivo per l'acqua delle fontanelle a zampillo. «Peccato per lui», pensò Chenier, esaminando nello specchio la posizione della propria parrucca. «Peccato per il vecchio Baldini. Peccato per il suo bel negozio, perché lo manderà in rovina. E peccato per me, perché quando l'avrà rovinato io sarò troppo vecchio per rilevarlo». In effetti Baldini si era tolto la giacca profumata, ma soltanto per una vecchia consuetudine. Già da tempo non lo disturbava più sentire l'aroma dell'acqua di Francipani. Già da decenni se lo portava in giro e non lo avvertiva nemmeno più. Aveva anche chiusa a chiave la porta dello studio e aveva preteso di essere lasciato in pace, ma non si era seduto allo scrittoio per meditare e attendere un'ispirazione, poiché sapeva molto meglio di Chenier che non avrebbe avuto ispirazione alcuna. In verità non ne aveva mai avute. Era, sì, vecchio, elogoro, questo era vero, e non era più un grande profumiere, ma sapeva di non esserlo mai stato in vita sua. Rosa del Sud l'aveva ereditato da suo padre e la ricetta del bouquet galante di Baldini l'aveva acquistata da un droghiere genovese di passaggio. Gli altri suoi profumi erano miscele arcinote. Non aveva mai inventato niente. Non era un inventore. Era un fabbricante ecoscienzioso di aromi sperimentati. Era come un cuoco che con la pratica e con buone ricette fa una grande cucina e tuttavia non ha mai inventato un piatto suo. Tutte quelle buffonate del laboratorio, dello sperimentare e dell'ispirazione, del fare in segreto, le recitava soltanto perché questo faceva parte dell'immagine professionale di un maître parfumier e gantier. Un profumiere era un mezzo alchimista che faceva miracoli. Questo voleva la gente. E va bene che la sua arte fosse un mestiere come qualsiasi altro lo sapeva lui solo. E questo era il suo motivo d'orgoglio. Non voleva affatto essere un inventore. L'invenzione gli era molto sospetta poiché significava sempre l'infrazione di una regola. Non si sognava neanche di diventare un nuovo profumo per il conte Veramont, né certo la sera si sarebbe lasciato convincere da Chenier a procurarsi amore psiche da Pellissier. L'aveva già, eccolo lì, sullo scrittorio davanti alla finestra, in un flaconcino di vetro con il tappo smerigliato. L'aveva acquistato già da qualche giorno. Naturalmente non di persona. Non poteteva certo andare di persona da Pellissier e acquistare un profumo, ma tramite un mediatore, il quale a sua volta, tramite un mediatore, bisognava essere prudenti. Infatti Baldini non voleva usare il profumo soltanto per la perle spagnola, per quella non sarebbe neppure bastata la scarsa quantità. Aveva in mente qualcosa di peggio. Voleva copiarlo. Del resto non era una cosa proibita. Era soltanto oltremodo sconveniente. Limitare in segreto il profumo di un concorrente e venderlo sotto il proprio nome era sconveniente e fuori di misura, ma ancor più sconveniente era lasciarsi cogliere in fallo e per questo Chenier non doveva sapere nulla, perché Chenier era charliero. Ah, che brutto che un uomo da bene si vedesse costretto a prendere vie così traverse. Che brutto dover insudiciare la cosa più preziosa che si possedeva, il proprio onore, in modo così meschino. Ma che cosa poteva fare? Il conte Veramont era pur sempre un cliente che lui non poteva assolutamente permettersi di perdere. Già non aveva più quasi clienti. Anzi, doveva di nuovo rincorrere la clientela come nei primi anni venti, quando era all'inizio della sua carriera e girava per le strade con la cassetta appesa al collo. Dio sa che lui, Giuseppe Baldini, titolare del più grande negozio di sostanze aromatiche di Parigi in ottima posizione, finanziariamente se la sarebbe cavata ancora a girare di casa in casa con la valigetta in mano. Ma ciò non gli piaceva affatto, poiché da un bel pezzo aveva superato i 60 e odiava aspettare in anticamere fredde ed esibire, a vecchie marchese, acque di mille fiori e aceto dei quattro ladri. Oppure propinar loro un unguento per l'emicrania. Inoltre, in quelle anticamere c'era una concorrenza assolutamente disgustosa. Ad esempio, c'era quella rivista Bruet de Rue de Fin, che pretendeva di avere la più grande serie di pomate d'Europa. Oppure Calteau di Rue Muconsei, che era riuscito a diventare il fornitore di corte della Contessa d'Artois. E questo Antoine Pellissier di Rue Saint-André-des-Artes, del tutto imprevedibile, che oggi, che a ogni saison, lanciava un nuovo profumo di cui tutti andavano matti. Un simile profumo di Pellissier poteva gettare tutto il mercato nel caos. Se un anno era di moda la lozione ungherese e, di conseguenza, Baldini si era rifornito di lavanda, bergamotto e rosmarino per soddisfare la richiesta, ecco che Pellissier veniva fuori con Rue de Mousse, un profumo al muschio ultrapesante. D'un tratto ognuno doveva per forza emanare un odore estremamente intenso e Baldini poteva utilizzare il suo rosmarino come lozione per capelli e la lavanda per imbottire sacchettini profumati. Se invece l'anno seguente Baldini aveva ordinato quantità adeguate di muschio, zibetto e castoreo, a Pellissier veniva in mente di creare un profumo chiamato Fior di Bosco, che subito diventava un successo. E alla fine, quando Baldini, dopo notti di ricerca e dopo aver offerto notevoli somme di denaro, riusciva a scoprire la composizione del Fior di Bosco, ecco che Pellissier veniva fuori di nuovo con profumi di successo, come Notti Turche, o Fragranza di Lisbona, oppure Bucquet de Le Coeur, e sa il diavolo che cos'altro ancora. In ogni caso, quest'uomo nella sua sfrenata creatività era un pericolo per tutta la professione. Ci si augurava un ritorno alla rigidità del vecchio diritto alle corporazioni. Ci si augurava che venissero prese misure draconiane contro questo individuo che faceva di testa propria. Questo inflazionatore di profumi. Bisognava togliergli la licenza, ingiugliergli un solenne divieto di esercitare il mestiere, e comunque quel tipo avrebbe dovuto una buona volta fare un periodo di tirocinio. Questo Pellissier infatti non era certo maestro profumiere e guantaio qualificato. Suo padre non era stato nient'altro che un fabbricante d'aceto, e fabbricante d'aceto era anche Pellissier, niente di più. E solo perché qualche fabbricante d'aceto era autorizzato a maneggiare alcolici, si permetteva di fare irruzione nella categoria dei profumieri veri e propri, e là di imperversare come una puzzola. Che bisogno c'era di un profumo nuovo ogni saison? Era proprio necessario? Il pubblico era stato soddisfattissimo anche prima con acqua di viole e con semplici bouquet di fiori che forse si potevano variare in minima parte ogni dieci anni. Per millenni gli uomini si erano accontentati di incenso e mirra, di pochi balsami, di oli e di erbe aromatiche fatte seccare. E quando avevano imparato a distillare con la bolla e l'alambicco e a estrarre per mezzo del vapore il principio odoroso delle erbe, dai fiori e dai vari legni sotto forma di olio essenziale, a torchiarlo con presse di legno, di quercia, dai semi, dai chicchi e dalle bucce di frutta, o a carpirlo ai petali dei fiori con grassi accuratamente filtrati, il numero dei profumi era stato ancora moderato. Allora una figura come Pellissier sarebbe stata del tutto impensabile perché allora già soltanto per fabbricare una semplice pomata occorrevano capacità che questo sofisticatore d'aceto non si sarebbe mai potuto sognare d'avere. Non soltanto bisognava saper distillare, bisognava anche saper fare pomate ed essere a un tempo farmacista, alchimista e artigiano, mercante, umanista e giardiniere. Bisognava saper distinguere il grasso di reni di montone dal sego di bovino giovane e una violetta vittoria da un'analoga violetta di Parma. Bisognava padroneggiare il latino, bisognava sapere quando si deve raccogliere l'eliotropio e quando fiorisce il pelargonio e che il fiore del gelsomino, alle var del sole, perde il suo profumo. Ovviamente questo Pellissier non aveva la più pallida idea di cose simili. Probabilmente non aveva mai lasciato Parigi in vita sua, non aveva mai visto un gelsomino in fiore, per non dire poi che possedeva soltanto un'ombra di quelle enorme, furfantesche abilità necessarie per strizzare fuori da centinaia di migliaia di gelsomini un piccolo grumo di concrete e un paio di cocce di essence absolue. Probabilmente conosceva soltanto questi. Conosceva il gelsomino soltanto come liquido concentrato marrone scuro contenuto in una boccetta che si trovava nella cassaforte accanto a molte altre boccette da cui lui attingeva per creare i suoi profumi alla moda. No, una figura come quel bell'imbusto di Pellissier non si sarebbe retta in piedi nel buon tempo antico quando le cose si facevano a regalo d'arte. Per questo gli mancava tutto, carattere, formazione, modestia e il senso di subordinazione corporativa. I suoi successi nel campo dei profumi erano dovuti unicamente e soltanto a una scoperta che il geniale Muzio Frangipane un italiano del resto aveva fatto già 200 anni prima e che consisteva in questo Le sostanze aromatiche sono solubili in alcol etilico Frangipane mescolando le sue polverine odorose con l'alcol e trasfondendo in tal modo il loro aroma in un liquido volatile aveva liberato l'aroma dalla materia aveva spiritualizzato l'aroma aveva scoperto l'aroma come aroma puro in breve aveva creato il profumo che grande opera, che impresa sensazionale davvero paragonabile soltanto alle conquiste più importanti dell'umanità come l'invenzione della scrittura da parte degli assiri la geometria euclidea le idee di Platone e la trasformazione dell'uva in vino da parte dei greci l'impresa proprio un'impresa proprio da prometeo e tuttavia come tutte le grandi imprese dello spirito danno non soltanto luce ma anche ombra e procurano all'umanità oltre che bene anche miserie e sciagure purtroppo anche la meravigliosa scoperta di frangipane ebbe nefaste conseguenze poiché ora dopo aver imparato a fissare in tinture l'essenza dei fiori e delle erbe dei legni, delle resine, delle secrezioni animali e a travasarle in boccette l'arte del comporre profumi era pian piano sfuggita ai pochi universalmente esperti del mestiere e rimaneva aperta ai ciarlatani anche se erano dotati soltanto di un naso discretamente fine come ad esempio quella puzzola di Pellissier senza curarsi di come avesse avuto origine il contenuto prodigioso delle sue boccette lui poteva limitarsi a seguire i suoi diribizi olfattivi e miscelare quel che gli veniva in mente al momento o che il pubblico al momento desiderava certo che quel bastardo di Pellissier a 35 anni possedeva già un patrimonio superiore a quello che lui, Baldini era riuscito infine ad accumulare nella terza età con duro e tenace lavoro e quello di Pellissier aumentava di giorno in giorno mentre quello di Baldini di giorno in giorno diminuiva nei tempi passati non sarebbe mai avvenuta una cosa del genere che un artigiano rispettabile e un commerçant arrivato dovesse lottare per la pura sopravvivenza era cosa che datava soltanto da pochi decenni e cioè da quando ovunque e in tutti i campi era scoppiata questa febbrile mania di rinnovamento questo sfrenato impulso all'attivismo questa furia di sperimentazione questa megalomania del commercio nel traffico e nelle scienze oppure la follia della velocità a che scopo avere tutte quelle strade nuove che stavano costruendo ovunque i nuovi ponti a che scopo che vantaggio c'era nel poter andare fino a Lione in una settimana a chi poteva importare o recarsi oltre la Tanzico in un mese raggiungere l'America a gran velocità come se per millenni non si fosse sopravvissuti egregiamente senza questo continente che cosa aveva perso l'uomo civilizzato nella foresta vergine degli indiani o per esso i negri andavano persino in Lapponia su al nord tra i ghiacciai eterni dove vivevano selvaggi che divoravano i pesci crudi e volevano scoprire anche un altro continente che dicevano si trovasse nei mari del sud dovunque fosse e a che scopo questa follia perché anche gli altri si comportavano così gli spagnoli i maledetti inglesi quegli impertinenti degli olandesi con cui poi si era costrette ad azzuffarsi cosa che non ci si poteva proprio permettere 300.000 lire costa una nave da guerra bene e in 5 minuti con un sol colpo di cannone è affondata addio per sempre pagata con le nostre tasche la decima parte su tutte le entrate pretende ultimamente il signor ministro delle finanze e questo è rovinoso anche quando non si paga questa quota perché già solo l'atteggiamento mentale nel suo insieme è dannoso la sventura dell'uomo la sventura dell'uomo ha origine dal fatto che non vuole starsene quieto nella sua stanza nel luogo nel luogo che gli compete dice Pascal ma Pascal era stato un grand'uomo un frangipane dello spirito un lavoratore di quelli giusti e oggi uno così non è più consultato oggi leggono libri sediziosi di ugonotti o di inglesi oppure scrivono trattati o cosiddette grandi opere scientifiche in cui mettono in dubbio tutto e tutti non c'è più niente che debba andare bene ora di un tratto deve cambiare tutto adesso in un bicchier d'acqua pare ci siano bestioline piccolissime che prima non si vedevano la si fide sembra essere una malattia del tutto normale e non più una punizione del Signore si dice che Dio abbia creato il mondo non più in sette giorni bensì in milioni di anni sempre che sia stato Lui i selvaggi sono esseri umani come noi i nostri figli li educhiamo in modo sbagliato e la terra non è più rotonda come è sempre stata bensì ha piattita sopra e sotto al pari di un melone come se questo fosse importante in ogni campo si chiede si fruga si indaga si spia e si fanno esperimenti di ogni genere non basta più dire di una cosa che cos'è e com'è ora tutto deve essere dimostrato possibilmente con testimoni e con cifre e con certe prove ridicole questi Diderot e D'Alembert e Voltaire e Rousseau o comunque si chiamino tutti gli imbrattacarte tra loro ci sono persino religiosi e signori della nobiltà sono proprio riusciti a contagiare tutta la società con la loro perfida inquietudine con il loro puro e semplice desiderio di essere scontenti e di non essere soddisfatti di nulla al mondo in breve con l'enorme caos che regna nelle loro teste dovunque si guardasse c'era un'agitazione effembrile la gente leggeva libri persino le donne i preti stavano seduti al caffè e se per caso la polizia faceva irruzione e ficcava in prigione uno di questi furfantoni subito gli editori cominciavano a sbraitare e inoltravano petizioni e i signori e le signore più importanti facevano valere la loro influenza finché dopo un paio di settimane o lo rimettevano in libertà o lo facevano trasferire all'estero dove poi quello continuava a pontificare senza ritegno nei salotti ormai si discuteva soltanto di orbite cometarie e di spedizioni della forza sviluppata da una leva e di un newton di canalizzazione di circolazione sanguigna e del diametro del globo terrestre e persino il re permetteva che gli esibissero un'assurdità che andava di moda una specie di temporale artificiale chiamato elettricità al cospetto di tutta la corte un uomo strofinava una bottiglia e si creavano scintille e sua maestà dicono appariva profondamente impressionato impensabile che il suo bisnonno quel Luigi davvero grande sotto il cui regno felice Baldini aveva ancora avuto la fortuna di vivere per anni avrebbe tollerato ad assistere ad una dimostrazione così ridicola ma tale era lo spirito dei tempi nuovi e non lasciava presagire niente di buono perché se già si poteva mettere in dubbio liberamente e nel più sfacciato dei modi l'autorità della chiesa di Dio se si parlava della monarchia non meno voluta da Dio e della sacra persona del re come se entrambe fossero soltanto le posizioni variabili di un intero catalogo di altre forme di governo che si potevano scegliere a proprio gusto se infine si arrivava al punto come in effetti avveniva di considerare non indispensabile Dio stesso l'onnipotente Lui in persona e di affermare in tutta serietà che esistevano ordine etica e felicità in terra indipendentemente da Lui soltanto per moralità innata e per ragionevolezza degli uomini stessi oh Dio oh Dio allora certo non c'era da meravigliarsi se tutto andava a catafascio e i costumi si corrompevano e l'umanità tirava su di sé il castigo di colui che sconfessava sarebbe finita male la grande cometa del 1681 di cui si sono presi gioco che hanno definito nient'altro che una massa di stelle era pur stata un segnale da ammonimento da parte di Dio poiché aveva annunciato ora lo si sapeva per certo un secolo di disfacimento di dissoluzione di palude spirituale e politica e religiosa che l'umanità stessa si era creata nella quale se stessa un giorno sarebbe sprofondata e nella quale sarebbero prosperati soltanto fiori palustri ambigui e puzzolenti come quel pelissier stava la finestra valdini il vecchio uomo e guardava con occhi astiosi il sole che declinava sul fiume chiatte apparivano sotto di lui e scivolavano lente verso ovest in direzione del pont neuf e del porto passando davanti alle gallerie del Louvre qui non c'erano chiatte sospinte con pertiche controcorrente quelle che dovevano risalire il fiume imboccavano il braccio d'acqua sull'altro lato dell'isola qui tutto scorreva via le navi vuote le navi cariche le barche a remi e quelle piatte dei pescatori l'acqua scura e sporca e quella increspata d'oro ogni cosa scorreva lenta piana e inarrestabile e quando Baldini guardava giù proprio fino in fondo lungo la parete della casa sembrava che la corrente risucchiasse via anche le fondamenta del ponte su cui si trovava e gli venivano le vertigini era stato un errore comprare la casa sul ponte e un doppio errore comprarne una situata sul lato ovest ora aveva sempre dinanzi agli occhi il fiume che scorreva e gli sembrava di scorrere via insieme al fiume con la sua casa e la sua ricchezza acquisita in decine d'anni e si sentiva troppo vecchio e troppo debole per opporsi ancora a quella corrente troppo forte tuttavia quando aveva da fare sulla riva sinistra nel quartiere vicino alla Sorbonne e a Saint-Souplice non passava attraverso l'isola e il pont Saint-Michel ma prendeva la via più lunga attraverso il pont perché su quel ponte non c'erano edifici e poi si appoggiava al parapetto a est guardava il fiume controcorrente per vedere ancora una volta ogni cosa scorrere verso di lui e per qualche istante godeva nel fantasticare che la direzione della sua vita si fosse invertita che le sue finanze fossero floride la famiglia prosperasse le donne fossero conquistate da lui e che la sua esistenza anziché defluire si rinvigorisse sempre più ma poi se solo sollevava un po' con lo sguardo a poche centinaia di metri di distanza vedeva la sua casa cadente alta e stretta sul ponto e vedeva la finestra del suo studio al primo piano e se stesso affacciato a quella finestra si vedeva guardar giù verso il fiume e osservare l'acqua che scorreva via come ora e con questo il bel sogno era svanito e Baldini in piedi sul ponto neuf si girava più depresso di prima depresso come ora nel momento in cui si staccava dalla finestra andava verso il suo scrittoio e si metteva a sedere